Piano di zona per i servizi sociali. Si cambia, non più un territorio vasto come l'intero agro nocerino sarnese, ma piccole entità con città, anche tre delle volte, per snellire le procedure ed evitare carrozzoni politici, alcune volte clientelari, oltre a tempi esagerati per assicurare i servizi importanti e fondamentali nel caso delle attività sociali. Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Roccapiamonte e Castel San Giorgio hanno dato vita al piano di zona subambito 01. Ieri, riunione al municipio della città Capofila. Iniziare con le indicazioni che ci sono state suggerite dall'assessore Lucia Fortini, l'assessore regionale, quindi penso che sia la strada giusta da seguire, anche perché consente anche di avere servizi più rapidi, più veloci e quindi una programmazione migliore rispetto al vecchio metodo. Questa struttura giuridica ci consentirà di migliorare i servizi verso i cittadini e quindi rendere sia sotto una forma qualitativa, ma anche sotto una forma di velocità, di tutti i bisogni che i nostri cittadini ci richiedono in maniera giornaliera. Questo dovrebbe rendere più facile la gestione del piano di zona, dovrebbe evitare tutta una serie di equivoci che si sono creati in passato e quindi avere, come devo dire, una gestione più lineare, è più limpida e più trasparente, è più efficiente. Quindi più efficiente. Un'azienda consortile per garantirsi i premialità. Questo ancora non è deciso, la riunione di oggi stabilirà quale sarà il futuro del piano di zona. Credo, ripeto perché ne ho preso coscienza pochi giorni fa, essendo arrivati il 5 maggio a Castel San Giorgio, per snellire, credo, le attività e la gestione. Quindi adesso dobbiamo un attimo stabilire quale forma utilizzare per gestire. C'è ovviamente una condivisione di indirizzi di massima, però ovviamente le sfaccettature sono tante. L'interesse che ha soprattutto il sindaco Giovanni Maria Cufano, per il quale io sono qui delegata oggi e che ci raggiungerà comunque tra poco, è quello di prevenire gli effetti della creazione di nuovi carrozzoni, come li definisce lui, nuove strutture che prevedano solamente ingombrante personale ma poco produttive. Al termine della riunione si è arrivata la costituzione dell'azienda speciale e consortile. Questa mattina il verbale sottoscritto dai rappresentanti delle quattro città è stato trasmesso alla Regione Campania. Successivamente si provvederà alla convocazione dell'Assemblea, a cui parteciperanno sindaci ed assessori di riferimento alle politiche sociali che dovrà eleggere il Consiglio di Amministrazione. Stabilito anche il gettone di presenza per i componenti dell'Assemblea, che è di 35 euro, stessa cifra erogata per le riunioni del Consiglio Comunale di Nocera Inferiore. Poi dovranno essere individuate le figure professionali che dovranno mettere in campo la reale attività del piano di zona ristretto, dunque assunzioni di personale specializzato. A questo punto la domanda è scontata. Non c'è il rischio che le diverse società consortili che stanno nascendo diventino altri carrozzoni, magari più piccoli, oppure orticelli, in alcuni casi anche clientelari? Dalle prime indicazioni sembra che i costi saranno leggermente più alti rispetto ad oggi. Il vecchio piano di zona costa 1 milione e 100 mila euro l'anno. Nocera Inferiore partecipa ad esempio con 414 mila euro. Vedremo quali indicazioni arriveranno dalla Regione, le diverse aziende consortili che nasceranno e quindi i relativi costi, con l'auspicio che i servizi verranno effettivamente erogati senza macinare soldi pubblici.